buongiorno a tutti allora fil pettina da brr che freddo che fa perché dobbiamo parlare di sci vado via veloce perché mi hanno detto che sono troppo lungo quindi slalom gigante femmini e femminile slalom gigante maschile da craniscagora del 13 marzo 2021 vediamo subito come è andata la prima manche che vede incredibile ma vero un miliardo al primo posto che tra l'altro è sceso con il pettorale 2 si è assiso bello comodo sul trono e ha guardato gli altri scendere e stagli dietro il primo più vicino a lui è pinturo secondo a 11 centesimi poi c'è bresteiner terzo a 52 centesimi e poi via via tutti gli altri quindi sarà una sfida due tra miliardi il più favorito diciamo pinturo oppure quelli che sono dietro passeranno davanti per quanto riguarda gli italiani come al solito ncs non ci siamo con il pettorale di uno è sceso il nostro de aliprandini ed è solo diciottesimo successivamente è sceso tonetti gli è stato davanti sedicesimo e infine borsotti è ventunesimo sono solo in tre ci sono dobbiamo accontentare 16 18 21 se volete giocateveli all'otto ma veramente un pianto un pianto un pianto non ho parole comunque la classifica dopo la prima manche vede miliardo al primo posto a 11 centesimi c'è pinturo a 52 centesimi bresteiner a 61 odermatt a 64 fevr a 88 caviezel gino al settimo posto 88 centesimo c'è smith all'ottavo c'è zucci c'è 93 centesimi favrò è a 1 e 0 1 e pazzarello fevr è a 1 e 16 inizia la seconda manche da crani cascagora grani crani crani scagora grango la g no con la k scusate crani scagora e il primo a scendere è lo sciatore austriaco burnier burnier spero di averlo pronuncié giusto anche se è francese non austriaco vediamo quale sarà il suo tempo e se poi riuscirà a recuperare qualche posizioncina chiude la sua prova con il tempo di 2 16 01 e 61 scusate 2 16 61 comunque è austriaco è la battuta era sul mio francese che avevo pronunciato alla francese però lui è austriaco a scanso di acquirici tocca allo sloveno adalin 29esimo dopo la prima manche e vantaggio di 29 centesimi sullo sciatore appunto austriaco adalin passa nettamente in testa con un bene un secondo e 22 di vantaggio sarà stata una grande manche manche oppure è burnier 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 come preferite che non ha fatto chissà che gara vedremo vedremo adesso vedremo la discesa degli altri per ora per ora sembrerebbe una buona gara di adalin adesso tocca a rachner 26esimo dopo la prima manche vantaggio di 33 centesimi sullo sciatore sloveno discreta prova che gli permette di stare davanti anche se solo per 32 centesimi perde un centesimino del vantaggio che aveva quindi un nulla però non incrementa quindi non lo so se sarà sufficiente per recuperare un po di posizione per ora sembrerebbe di sì adesso vediamo borsotti 21esimo dopo la prima manche e 26 centesimi di vantaggio sullo sciatore non ha segnato rachner dovrebbe essere austriaco comunque rachner poi contro le robe lo metto in descrizione comunque tocca a borsotti 21esimo dopo la prima manche come dicevo prima 26 centesimi di vantaggio e ma fa ncs non ci siamo mi fa una gara pessima è settimo con un ritardo di 1 08 preferisco non andare avanti nei commenti tocca a dea liprandini 18esimo dopo la prima manche 41 centesimi di vantaggio vediamo se almeno riuscirà a entrare nei 15 che sarebbe già qualcosa non male ma per i primi 15 è dura è davanti ma con solo 10 centesimi quindi ha perso la bellezza di 31 centesimi del vantaggio non ha incrementato se entra nei 15 già è tanta roba tocca al nostro tonetti 34 centesimi di vantaggio sul compagno di squadra 16esimo dopo la prima manche obiettivo stare davanti o vicino al compagno non ci siamo neanche per lui è solo quinto a 52 centesimi niente vabbè l'unica cosa positiva è che da liprandini adesso male che vada sarà sedicesimo quindi forse uno uno di quelli che scenderanno dopo potrebbe anche stagli dietro la classifica dopo la discesa degli atleti dalla trentesima alla sedicesima posizione bene dea liprandini primo ride secondo rashner e terzo adaline quarto quindi ha fatto un'ottima manche perché ha recuperato un botto di posizioni era ventinovesimo male che vada sarà diciannovesimo 10 posizioni recuperate non male quindi abbiamo al quinto posto sono un bene in tre windistat help e tonetti all'ottavo prosto c'è cragne c'è al nono mufajande e al decimo sarazan sarazan e al dodicesimo abbiamo il nostro simpatico borsotti che ha perso un botto di posizioni tocca luiz vantaggio di 59 centesimi sul nostro sciatore una buona prova mantiene quasi tutto il vantaggio si prende al primo posto con ben 57 centesimi di vantaggio quindi ha perso due centesimi da bazzeccola però se non incrementi è difficile poi riuscire a recuperare tante posizioni qualcuna la recupera perché adesso tocca a christophersen che ha un vantaggio di 21 centesimi sullo sciatore tedesco anche per lui una buona manche si porta in testa ma non incrementa e non incrementa nessuno incrementa 19 centesimi di vantaggio ne perde due certo uno dice gg è perso due centesimi è partito con però se vuoi recuperare tante posizioni devi incrementare il vantaggio con cui parti però magari per le prime dieci posizioni basteranno visto che ormai ne mancano pochi e infatti effettivamente come direbbe abbattantuono per dirla abbattantuono quando mancano i migliori otto della classifica la classe della classifica vede christophersen al primo posto feller è secondo luiz è terzo favreau è quarto leitinger è quinto hogan è sesto dea liprandini è settimo quindi magari che vada sarà quindicesimo ride ottavo rashner è nono e adalin è decimo bene 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 mi stop un nanosecondo che recupero la classifica dopo la prima manche perché poi dobbiamo fare il paragone e poi andiamo avanti perché toccherà a zucic vedere cosa combinerà bene 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 allora come dicevamo classifica prima manche recuperata e vediamo cosa combina zucic ottavo dopo la prima manche vantaggio di 31 centesimi sull'esciatore norvegese è incredibilmente primo ma per solo un centesimo sarà dura che recuperi tante posizioni ma almeno conferma l'ottavo posto vedremo è perché tutto può accadere sapete che nelle seconde manche ne succedono sempre di ogni e infatti un paio di posizioncine le recupera perché sia smith che gino cavezza non riescono a stargli davanti tocca a febbre quinto dopo la prima manche vantaggio di 29 centesimi sullo sciatore croato una buona prova alla fine centra il risultato cioè centra conta il risultato è primo ma per soli 15 centesimi quindi praticamente ha perso metà del suo vantaggio ma in ogni caso male che vada sarà quinto che è sempre libidine stare sempre nei primi cinque sempre una bella cosa tocca a odermatt il quarto dopo la prima manche e vantaggio di soli tre centesimi sullo sciatore francese mi consente a questo è matto questo è veramente matto si chiama odermatt e le mat e le mat perché le da gioco come una mina come un missile è andato giù un missile terraria ci aveva messo due due testate sui lati che è andato giù come un missile proprio praticamente è primo ma è primo con un secondo e 18 di vantaggio podio minimo assicurato e adesso voglio vedere chi riesce a stargli davanti perché veramente è andato giù della serie o vinco o vinco punto non ci sono cioè o mi disfo o vinco è andato giù c'era c'erano i due cosi che sono rimasti allibiti allibiscono come dicevano in un film comunque tocca a bresteiner vediamo se lui riesce ad andare giù come un missile oppure no 9 centesimi di vantaggio e terzo dopo la prima manche vediamo se riesce a insediare lo sciatore svizzero che ha fatto una gara pazzesca e invece no però secondo è secondo però con ben un secondo e 0,9 di ritardo è riuscito a piazzarci al secondo posto con nove centesimini su su febbra nove centesimi perché se non era terzo e comunque ha preso un secondo nella tre ha preso un secondo e 12 vediamo pinturo cosa combina secondo dopo la prima manche mezzo secondo di vantaggio non ha parole è terzo a 1 e 11 di ritardo quindi a due centesimi da bresteiner io veramente non ho pagore che gara ha fatto odermann veramente che gara ha fatto odermann e poi dopo si riapre tutto il discorso per la classifica generale che ne parleremo dopo e anche per la per la classifica della coppa di gigante che se la vedranno a lens ride tocca a mediante primo dopo la prima manche vantaggio di 61 centesimi sfida svizzera quindi mediante contro odermann e per quanto riguarda il podio deve stare dietro massimo di 1 e 11 perché così se arriva a 1 e 11 è terzo a pari merito con pinturo e invece no è secondo a 1 e 0 6 giustamente perché siamo lì vicini vicini no 1 a 0 6 l'altra 1 a 09 quell'altra 1 e 11 e il primo ha un secondo un abbondante di vantaggio odermann ha fatto una gara che definitela voi perché veramente non ci sono aggettivi per per spiegare una gara del genere comunque classifica finale odermann è primo adesso vedrete anche la classifica le differenze che c'è tra il primo e il secondo e tra il secondo e il decimo perché veramente non ho parole odermann è primo meiarde seconda 1 e 0 6 brentsteiner è terza 1 e 09 pinturo e quarta 1 e 11 fevre quinto è a 1 e 18 zupcic è sesto 1 e 33 christoffersen è settimo a 1 e 34 feller è ottava a 1 e 45 caviezza il gino è non a 1 e 52 lui sedecimo a 1 e 53 tra prima e secondo c'è un secondo e 0 6 tra secondo e decimo ci sono 47 centesimi praticamente odermann ha detto io sono il numero uno e poi ve la vedete voi c'è proprio una gara proprio doppia libidine con doppio avvitamento montale fiocchi contro fiocchi e super fiocchi c'è pazzia andiamo a vedere tra prima e seconda match intanto come sono andate le cose allora nella prima match feller era decimo ed è arrivato ottavo ha recuperato due posizioni favore era nono e ahimè favore è fuori dai dieci zupcic era ottavo e libidine ha recuperato due posizioni e sesto smid era settimo e ahimè anche lui è fuori dai dieci caviezza il gino era sesto purtroppo per lui perde tre posizioni e termina al nonno posto fevre era quinto e rimane quinto pinturo era secondo mi termina al quarto posto quindi perde due posizioni che sono anche pesanti bresteiner era terzo e rimane terzo milliard era primo no pinturo era secondo mi diventa quarto odermann era quarto mi diventa primo e milliard era primo e mi diventa secondo io sono andato a guardare dalla parte opposta comunque ci siamo capiti ragazzoli andiamo adesso però a vedere com'è la situazione perché qua la situazione si fa veramente libidinosa classifica generale di slalom gigante attenzione perché c'è ancora una gara che si discuterà lens ride e si giocano al primo posto odermann e pinturo perché odermann ha 625 punti pinturo ne ha 600 e zub c'è terza 526 poi vabbè c'è miliarda tra i 93 ma manca una gara ci sono 100 punti quindi se pinturo vince odermann deve arrivare secondo sarei a secondo pinturo va a 700 sì e odermann va a 705 per 5 punti vince poi perché ci sono 25 punti di differenza se no se pinturo arriva a seconda e odermann arriva a terza è uguale perché uno prende 80 punti l'altro ne prende 60 quindi 20 punti di differenza cambia poco se stanno vicini uno all'altro quindi terzo quarto forse potrebbe esserci un problema di maggiori differenze però se sono lì vicini vicino uno vicino all'altro primo secondo cioè pinturo vince odermann è secondo pinturo arriva a secondo odermann arriva a terzo pinturo è terzo e odermann arriva a quarto eccetera dovrebbe essere sufficiente se ci sono invece due posizioni di differenza nel senso pinturo vince la gara e odermann è terzo è pinturo che si porta a casa la sfera se però odermann e pinturo non dovessero finire la gara e dovesse vincere zucic è lui che praticamente gli dice ma ciao e vinco io mettiamo a caso prima manche pinturo primo odermann secondo zucic terzo scende zucic vince la gara cioè si mette al primo posto scende pinturo in forca scende odermann cade zucic è campione ecco queste sono le tre opzioni che ci sono viceversa nella classifica overall quella di tutta la stagione pinturo è primo a 1100 punti odermann è secondo a 1069 domenica si è disputata ne parlerò prossimamente penso nella nottata perché adesso devo fare altro devo fare le schedine bollettine del gigione per la champions ma vi interessa poco per chi segue per lo sci vi farò le due gare maschile femminile di slalom che si sono disputate domenica e siccome slalom speciale non so se odermann mi sembra che anche lì odermann però pinturo è strafavorito quindi dovrebbe incrementare a sua volta il punteggio però anche in slalom c'è tutta una questione di punteggi da vedere però potrebbe incrementare il suo punteggio nella overall rispetto a odermann però è tutto in divenire l'ensraide ci sarà veramente da divertirsi perché ci sono ancora parecchie sfere sia della coppa generale sia delle varie specialità da elargire mi sembra che solo nel super g e c'era la lara gut che è un super g si super g perché discesa libera può darsi che ci sia anche la nostra so 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 fia che si gioca appunto la coppa di specialità in discesa libera quindi c'è ancora tutto da da fare detto questo vi saluto vi ringrazio ci vediamo alla prossima ciao